Penserei che possiamo cominciare, se siete d'accordo, così siamo puntuali. Siamo in diretta da Transform, la pagina di Transform, gli organizzatori sono l'Esservatori Europa, che da circa un anno si nasce per discutere, riflettere e anche proporre pubblicamente queste riflessioni e queste discussioni su vari temi. Oggi parliamo di Nato, ci coordina Fiammetta Salmoni, a cui lascio la parola. Grazie. Grazie a tutti, soprattutto per l'onore di presiedere questo seminario importantissimo per tutto ciò che sta accadendo e non soltanto proprio a livello concreto, cioè la guerra tra la Russia e l'Ucraina, ma anche a livello giuridico e geopolitico, che poi sono dei livelli che si intrecciano, ahimè, come sempre, con quello geoeconomico, perché ormai tutto si tiene, mai direi come in questo momento tutto si collega in maniera molto stretta. La relazione che farà Michela Arricale sarà, io ho letto il riassunto, molto ricca e molto importante per gli spunti di riflessione che ci darà. Io voglio soltanto dire, e poi passerò subito la parola a Michela, che c'è tanta confusione su questo argomento, purtroppo, anche da parte di noi giuristi, perché si confonde il concetto di bussola strategica e di difesa comune europea con quello di autonomia dell'Europa nei confronti degli Stati Uniti e della Nato. Cosa che, come vedremo dalle relazioni sia di Michela che di Roberto, purtroppo non è esattamente in questi termini. Quindi direi, senza induggiare oltre, passo la parola a Michela Arricale, così ci potrà illustrare la sua relazione, e poi andremo avanti con Roberto Musacchio, che voi tutti conoscete. Allora, grazie Fiammetta, grazie a Transform per aver organizzato, per averci permesso di organizzare con l'Osservatorio Europa questo momento di riflessione. Grazie a chi ci sta seguendo e a chi ci seguirà, a chi vedrà poi il video successivamente. Come dice Fiammetta, questo vuole essere un primo momento di riflessione con l'indicazione di una serie di spunti che emergono da questo fatto, che secondo me ha un'importanza storica, cioè del rinnovamento dello strategic concept della Nato. Che cos'è lo strategic concept? Lo strategic concept è il documento politico che guida l'azione dell'alleanza. È un vero e proprio documento assiologico che in determinati momenti, più o meno a distanza di 10-15 anni l'uno dall'altro, riorganizzano la prospettiva strategica della Nato e di conseguenza ne guidano l'azione concreta e di conseguenza guidano poi l'azione concreta dei singoli stati membri. Questa del 2022 è l'ottava modifica dello strategic concept, però soltanto quelle avvenute dall'89 in poi sono pubbliche tutte o in parte. Quindi noi abbiamo notizia, possiamo analizzare soltanto i documenti che riguardano le ultime tre modifiche dello strategic concept. Quello avvenuto a cavallo della guerra del Kosovo nel 1999 e quello avvenuto a cavallo della guerra in Siria nel 2010. Già solo questo brevissimo elenco può rendere esplicita l'importanza che ha questo strategic concept. Entrambi i precedenti sono stati a cavallo di conflitti che comunque hanno segnato la direzione delle relazioni internazionali negli anni a seguire. In particolare quella del 1999, quindi quella avvenuta dopo il crollo dell'Unione Sovietica e lo smantellamento del patto di Varsavia, mentre tutta la comunità internazionale, che non apparteneva alla Nato, il gruppo dei paesi non è allineato, il gruppo dei paesi del patto di Varsavia, si aspettavano che anche i paesi occidentali smantellassero l'organizzazione difensiva. Ciò non è stato, la Nato si è trasformata e nel 99 da alleanza puramente militare e difensiva si trasforma e inizia a implementare le sue funzioni politiche e di poliziotto dell'umanità. Perché con la modifica del 1999 si statuisce che la Nato potrà intervenire autovarea con le operazioni fuori dai confini dell'alleanza, così per legittimare poi l'intervento in Kosovo, che in quel momento appunto non faceva assolutamente parte del territorio della Nato. Con lo strategic concept del 2010 si ha un ulteriore allargamento dei confini geografici dell'intervento dell'alleanza, con la possibilità di intervenire nelle operazioni autovare e anche extra-regionali. e si inizia a parlare per la prima volta di guerra ibrida e di smart defense, cioè la dimensione della sicurezza viene allargata non più ad una concezione strettamente militarista, convenzionale, ma si allarga anche ad altre dimensioni strategiche, in particolare quella economica e quella politica. Con questa modifica del 2022 dello strategic concept definiamo completamente la trasformazione dell'organizzazione da foro militare a foro politico con un allargamento enorme del significato, del concetto di sicurezza che diventa talmente pervasivo da risultare un vero e proprio requisito pregiuridico, cioè viene posto come un vero e proprio requisito necessario alla possibilità stessa dell'esistenza di uno Stato di diritto. Cioè si antepone la questione della ricerca della sicurezza alla questione dell'organizzazione. Giovanni, togli l'audio. Sì, sì, hai ragione, scusa. L'antepone quindi il conseguimento di questa fantomatica sicurezza addirittura all'esercizio dei diritti civili e politici. Questo dal punto di vista strettamente, giusto per fare un inquadramento, un minimo, diciamo per dare un minimo di linearità e di processo storico dell'evento. Io inizierei ad analizzare il documento e a connetterlo nello specifico con le cose a cui ho accennato nella mia introduzione. E inizio dicendo che anche questo, come i precedenti, è un vero e proprio discorso assiologico, cioè tende a delimitare proprio lo stesso universo del discorso all'interno del quale noi saremmo ammessi a interpretare le nostre esperienze. In che senso? Il linguaggio che viene usato è molto, come posso dire, epico, emozionale, è molto ricco di aggettivi di valore che però poi a ben vedere non hanno un significato molto specifico. Si fa riferimento in maniera trasversale in tutto il documento a una sorta di scontro di civiltà in cui le parti sono gli stati cosiddetti sedicenti democratici e gli stati autoritari. inizia l'inquadramento ideologico già dalla prefazione dove si utilizzano dei termini molto specifici che fanno riferimento ad un dibattito molto intenso all'interno delle relazioni internazionali. In particolare nella prefazione dice noi, capi di Stato e di Governo dell'Alleanza che vogliamo stringere, vogliamo stringere i legami che ci uniscono, vogliamo essere sempre più forti di fronte alle minacce nella difesa del rule-based international order, cioè un ordine internazionato fondato sulle regole. A prima chitto questa locuzione potrebbe sembrare un riferimento all'ordine internazionale. Ma quale tipo di ordine internazionale? Perché fino a qualche tempo fa, fino a qualche anno fa, nella narrativa istituzionale di questo genere, la locuzione che sostituiva questa era a difesa del legal international order, cioè dell'ordine legale internazionale. Questo ordine legale internazionale che faceva riferimento quindi a tutta una serie di presupposti, quale l'universalità, il principio di legalità, il principio di formazione delle regole delle regole vincolanti a livello internazionale. Comunque fa riferimento a tutta una serie, a tutto un apparato che noi chiamiamo apparato di diritto internazionale, che invece la locuzione, il rule-based international order, non fa. Rule-based international order è una locuzione che ha significato strettamente politico ed indica una volontà strettamente politica che è quella di difendere sì un mondo di regole, ma non di regole giuridiche, ma di regole che vengono nella loro stessa idea concordate, negoziate in summit ristretti, riunioni di vertice e poi imposti al resto della comunità internazionale. Questo dibattito, questo conflitto è il conflitto più importante che in questo momento si combatte a livello internazionale, dove da una parte c'è una grossa fetta della comunità internazionale che spinge per dare rilevanza e significato a tutte le istituzioni universali internazionali come l'ONU e le sue organizzazioni internazionali e un gruppo di stati, segnatamente gli stati cosiddetti dell'Occidente democratico, che invece spingono per un altro tipo di organizzazione internazionale che è fatta di regole decise tra amici ed applicate, interpretate a seconda della convenienza. Sembra questa questione del rule-based international order una piccolezza, ma invece è proprio il nucleo di senso, cioè il nucleo di senso fondamentale che regge poi la contraddizione che si esprime con questo documento. dice rule-based international order e per fare ciò che cos'è che bisogna fare? Bisogna assicurare di essere in grado di difenderci con un approccio però a 360 gradi. Dice la guerra è cambiata, la guerra non si combatte più con le bombe, la guerra non si combatte più con i carri armati, ma con una serie di cose che noi dobbiamo essere pronti ad affrontare. E come si fa a prepararsi ad affrontare questa cosa? Dice uno con un maggiore partenariato pubblico-privato, il che messa così potrebbe sembrare una semplice questione di cooperazione, ma diventa preoccupante e pericoloso nei suoi sviluppi possibili soprattutto per quanto riguarda l'emergere di determinati attori privati che hanno di fatto poteri più grossi e più rilevanti di alcuni stati come le grosse multinazionali informatiche o le grosse multinazionali spaziali, cyberspace e space, cioè cyberspazio e spazio infatti sono due tra i nuovi scenari di sicurezza che vengono inquadrati. Comunque ritorniamo, stiamo ancora alla prefazione, la prefazione dice per mantenere questo nuovo mondo di regole, questo nuovo ordine internazionale fondato sulle regole, chi le decide queste regole? Quali sono queste regole? non viene mai specificato, né in questo documento né altrove, cioè è proprio una locuzione fatta apposta per essere ambigua e portatrice di fraintendimenti. dice che dobbiamo prepararci a respingere tutti gli attacchi tutti gli attacchi che possono venire da tutte le interferenze maligne dei nuovi attori internazionali. Mi fa piacere sottolineare questa curiosità. il termine maligno nello strategic concept è utilizzato ben cinque volte, quindi è significativo dell'approccio, diciamo, da sceneggiatura hollywoodiana con cui viene inquadrato, vengono inquadrati gli scenari di sicurezza. Questa è una cosa molto chiara, infatti anche mettendo a confronto il documento di quest'anno, del 2022, dal documento del 2021 con cui annunciavano questo cambio di strategic concept, si nota in maniera chiara e diretta il cambio del tipo di linguaggio utilizzato. Mentre quello del 2021 era molto più tecnico, si addentrava nelle analisi delle situazioni sia politiche che militari, questo di quest'anno rimane vago e per essere interpretato appunto bisogno della conoscenza di tutti i documenti che l'hanno preparato, altrimenti si rischia di cadere nella trappola di questa terminologia un po' ambigua e diciamo questi contenitori in cui a seconda dell'ideologia poi di appartenenza ognuno sarebbe in grado di riempirlo di un significato diverso. Lo strategic concept dopo questa premessa si addentra nella descrizione del nuovo ambiente strategico e si identificano fondamentalmente dieci punti. Prima di tutto, nel primo paragrafo l'identificazione del nemico, l'avevo già accennato prima, il nemico sono gli stati autoritari e la loro influenza maligna sul nostro stile di vita. Nel paragrafo successivo si statuisce la fine della globalizzazione perché dice che queste potenze maligne tanto hanno potuto interferire col nostro stile di vita e con i nostri valori perché la nostra società è troppo aperta, è troppo aperta e quindi ha permesso l'infiltrazione di questi agenti malvaggi che hanno messo a repentaglio addirittura i nostri processi democratici. cercano di approfittarsi della natura aperta e interconnessa delle nostre nazioni quindi ecco la globalizzazione è finita. Anche le catene di valore lunghissime sono terminate, addirittura la tutela delle opportunità economiche e la sicurezza delle catene di valore diventano veri e propri scenari di sicurezza il commercio diventa scenario di sicurezza parla della situazione attuale dando ogni colpa alla Russia dice la Russia è diventata aggressiva ha aggredito l'Ucraina non lo possiamo accettare non fa nessun riferimento a tutto ciò che è stato prima del 25 febbraio 2022 fa finta che non sia diciamo che non sia successo niente giusto qualche accenno al terrorismo internazionale il fianco meridionale il confine meridionale della Nato e il confine il confine meridionale della Nato quello del Medio Oriente africano viene quasi completamente abbandonato in pratica agli alleati del campo dice sì sicuramente il terrorismo continua a rappresentare una delle più grosse minacce e certamente sosterremo tutti gli alleati soprattutto quelli del Medio Oriente nella lotta al terrorismo degli attori non statali attenzione però perché sulla lotta al terrorismo anche membri della Nato hanno fondato vere e proprie campagne di persecuzione politica contro gli oppositori faccio esplicito riferimento alla Turchia che attraverso l'abuso degli strumenti giuridici offerti dalla normativa nazionale e internazionale antiterrorismo ha in pratica distrutto la democrazia turca eliminando interi partiti politici e perseguitando un intero un intero popolo attenzione quindi a tutti quando ci stanno grossi proclami ideologici contro la lotta al terrorismo bisogna aumentare l'attenzione ehm 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 il terrorismo Medio Oriente ah e per la prima volta per la prima volta anche la Cina diventa un obiettivo un oggetto della sicurezza e non un uno degli scenari di sicurezza uno dei nemici possibili ma il vero nemico strategico a questo proposito devo raccontare devo raccontare un aneddoto nel senso ehm è stato l'intervento punto ricomincio ehm queste tutte queste cose lo il cambiamento rinnovamento dello strategic concept la Cina come obiettivo strategico la guerra ehm calda o fredda sul fronte orientale sarebbe sono cose che sarebbero successe lo stesso probabilmente con tempistiche diverse Biden il nuovo presidente degli Stati Uniti ha avuto un ruolo assolutamente esiziale però nell'accelerazione incredibile ehm che è stata data al processo ehm anche nel nell'assorbire nuovi ehm nuovi spunti nel duemiladiciannove la Cina nel documento del summit del duemiladiciannove non viene nominata nemmeno una volta è solo nel duemilaventuno dopo nel summit quindi dopo l'elezione di Biden che la Cina inizia a diventare ehm inizia a diventare inizia a entrare nella lente eh della Nato a margine di quel summit di giugno duemilaventuno Macron si azzardò a dire durante un'intervista dice sì però sai com'è la Cina è lontana che ce ne fotte a noi della Cina nessuno disse niente dopo una settimana l'Australia rescisse un contratto miliardario per la fornitura di sottomarini eh della già contratti già firmati per la fornitura di sottomarini dalla Francia all'Australia sostituendoli con tredici sottomarini allestiti con testate nucleari vendute dagli Stati Uniti questo Biden è stato un chiarissimo segnale che ha dato all'alleato e di guarda meglio che non commenti oltre ecco giusto per dire la rilevanza ehm la il potere che ehm certe figure hanno all'interno dell'organizzazione eh basti pensare che il summit ehm di Bruxelles dell'anno scorso si è tenuto a giugno a febbraio durante un'audizione al Senato Blinken segretario di Stato americano che cosa ha detto? Ha detto la Cina continua parlando al proprio congresso ha detto la Cina continua ad essere perché già con Trump lo era nostro nemico avversario strategico dal punto di vista economico noi da soli non ce la possiamo fare ad affrontarlo perché si e no deteniamo il 20% del prodotto interno lordo del globale del PIL globale però se invece ci alleiamo con tutti i nostri alleati allora iniziamo ad avere quasi il 50% ehm a rappresentare quasi il 50% del prodotto interno lordo globale quindi diciamo riusciamo a essere un ehm un come dire un avversario che inizia che deve essere comunque preso in considerazione dalla Repubblica Popolare Cinese ed è infatti proprio questo che è stato fatto questo che Blinken ha raccontato al proprio Senato come una strategia necessaria agli Stati Uniti per mantenere il proprio ehm dominio economico globale è stata completamente assorbita nella strategia Nato e non solo questa perché ehm ma andiamo con ordine la Cina è così eh cyberspace e space l'abbiamo l'abbiamo accennato spazio e cyberspazio diventano scenari di sicurezza fondamentali in particolare lo spazio quindi scordiamoci tutte le ehm diciamo quello che è stato fino ad ora cioè lo spazio come luogo di cooperazione scientifica per il progresso dell'umanità no gli Stati Uniti vogliono trasformarlo in uno scenario di guerra perché dice nello spazio abbiamo una serie di satelliti che sono strettamente necessari e fondamentali per la nostra capacità di deterrenza e di difesa un attacco in questo momento siamo praticamente nudi di fronte a un probabile attacco spaziale che qualcuno ci potrebbe fare quindi ci dobbiamo difendere sempre questa cosa quindi ci dobbiamo difendere ci dobbiamo sentire sicuri alla ricerca di una cosa che non è altro poi che una condizione soggettiva della gente la sicurezza è un sentimento è una percezione come dire è uno uno stato eh di cose che dipende molto più dalla situazione del del soggetto agente che dalla l'effettivo ehm contesto che ehm che lo riguarda ehm il cyberspazio lo spazio di internet anche qui dimentichiamoci l'internet come spazio libero no quel sogno che è durato qualche anno di luogo libero da regole no il sogno dell'anarchia scordiamo e ce lo diventerà militarizzato grazie anche alla promozione della collaborazione eh difesa privati soprattutto nel campo ehm dell'informatica eh poi ci sono due paragrafi che meriterebbero non c'è tempo però di essere letti e tradotti parola per parola perché sono paradossali ehm per sono paradossali ehm per quanto riguarda la la il deterioramento del contesto del controllo delle armi no si parla di questa di questo deterioramento del del fatto che c'è una nuova una nuova forza alle armi la proliferazione delle armi non convenzionali chimiche batteriologiche nucleari eccetera eccetera come Stati Uniti che con tutte le potenze occidentali non c'entrassero niente con questo sfacelo come se gli Stati Uniti non si fossero unilateralmente ehm cancellati dal trattato per il ban delle armi tattiche ammigliorate scusa Michela un attimo Michela scusami un attimo c'è qualcuno che deve spegnere proprio il microfono perché altrimenti sta assettendo anche da distattivo e quindi crea problemi per favore spegnete il microfono distattivo e quindi crea problemi Giorgeri devi spegnere il microfono bene vai Michela ok sì in effetti lo senti ero tipo in trance però sentivo questo questo rumore ehm è è come mezz'ora eh come ah sì 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 due minuti ehm no no e arrivo ma la cosa è più importante arriviamo ecco al punto più importante ossia per la prima volta in un documento della Nato il cambiamento climatico diventa elemento fondamentale dello scenario strategico dice il cambiamento climatico è un trip multiplier cioè un moltiplicatore di ehm di pericoli è un moltiplicatore di crisi è un moltiplicatore di danni ehm il cambiamento climatico diventa fondamentale diventa un fondamentale scenario di sicurezza in una duplice ehm in una duplice veste sia dal punto di vista della resistenza o resilienza come piace dire a loro agli effetti del cambiamento non si parla mai di lotta al cambiamento climatico si parla di resilienza agli effetti del cambiamento climatico e di come ehm di come le grosse eh crisi climatiche le le grosse manifestazioni che sono tempeste eccetera eccetera eh desertificazioni siccità che sono conseguenze del cambiamento climatico impattano in maniera negativa sulla sicurezza degli stati membri perché se il governo diciamo che ha subito questo shock naturale non è in grado di gestire le conseguenze di questa cosa o non vuole o non è in grado di fare tutto quello che deve per mitigare gli effetti del cambiamento climatico allora questo diventa un problema di sicurezza che può essere affrontato anche ex articolo 5 eh dello statuto ricordiamo per chi ci segue che l'articolo 5 dello statuto riguarda la possibilità ehm per i membri dell'alleanza di intervenire militarmente in difesa dei propri interessi di sicurezza e si dice che il cambiamento climatico è da analizzare caso per caso eh perché c'è sempre questa specificazione che riguarda la questione del della differenza tra legal international order e ehm e rule based order perché la ehm la capacità di un determinato elemento riconducibile al cambiamento climatico diventa un problema di sicurezza analizzandolo caso per caso e qui si compie no quello che diceva Carl Schmitt il diritto liberale si applica per i nemici e si interpreta per gli amici perché è questo quello che noi effettivamente viviamo già oggi perché se da una parte ci stanno portando alla terza guerra mondiale oppure già stiamo combattendo ehm la terza guerra mondiale in nome di democrazia e sicurezza in nome della democrazia dello stato di diritto e dei diritti umani dall'altro stringiamo relazioni politiche non solo economiche e commerciali con stati che di democratico e di stato di diritto non hanno niente come l'Arabia Saudita ma la stessa Turchia che è un membro eh stimato della Nato è il secondo ehm il secondo investitore chi spende di più in armamenti dopo eh gli Stati Uniti che sono assolutamente sovrani indiscussi eh di questa cosa e alla luce di questo ehm di questo interesse per i cambiamenti climatici io rileggerei anche tutta la retorica che è stata fatta negli ultimi anni nei confronti della Cina come primo inquinatore mondiale no? Perché noi sappiamo che eh negli ultimi dieci anni le politiche interne cinesi si sono riorganizzate anche alla ricerca di un equilibrio tra eh la questione ambientale la questione climatica e lo sviluppo industriale eccetera eccetera tutte queste cose per l'Occidente democratico non sono mai successe e non esistono stanno ancora con i dati e con con la stessa narrativa che si aveva negli anni diciamo quindici anni fa nei confronti della Cina che ehm per sostenere la propria crescita industriale se ne fottiva altamente delle questioni relative all'inquinamento tanto da creare quelle quelle città eh camere a gas di cui abbiamo eh fotografie quelle cose non ci sono più non ce l'hanno eh però non ce l'hanno detto perché la Cina deve essere un nemico e deve essere un nemico comune e lo strategic concept quando si parla di Cina non si parla di tanto di pericolo ehm di pericolo della sicurezza ma dice che la la Cina sfida i nostri interessi e i nostri valori sceglie delle parole per giustificare eh un documento politico sceglie delle parole per giustificare questa diciamo questo questo schieramento questa distinzione di campo che hanno veramente più a che vedere con una scenografia da supereroe eh hollywoodiano che in una quello che ci ci si aspetterebbe in una matura eh scena delle relazioni internazionali dello stato di diritto ehm eccetera eccetera ehm eh Abbiamo identificato tutti i dieci punti fondamentali che emergono in questo strategic concept e mi avvia a conclusioni, sono stata un po' lunga, molte cose ho dovuto tagliarle, mi sono accorta nella preparazione, evidentemente la velocità del pensiero è nettamente superiore alle possibilità verbali e pratiche della mia bocca, speravo di riuscire a dire più cose. Ma questo è, allora questi sono i dieci punti che emergono, trasversali a questo il richiamo fortissimo all'unità politica, quando si parla di legami, si parla di legami rivestiti d'acciaio tra i membri e questo è un punto importante e anche questo è farina del sacco di Biden. Biden ha fondato tutta la propria campagna elettorale sulla necessità di rivitalizzare la deterrenza, rinvigorire la deterrenza della Nato attraverso un riassestamento dei legami tra i membri della Nato. Per fare questo ha dovuto aspettare però che la Merkel se ne andasse in pensione, perché voglio dire uno dei più grossi cruci degli Stati Uniti, e lo esprimevano sempre all'interno della Nato, era appunto questa indipendenza espressa dalla Germania che addirittura si era permessa di costruire un gasdotto che portava direttamente il gas russo in Europa. Questo non poteva assolutamente essere accettato dagli Stati Uniti di Biden. Per cui la guerra, lui l'ha dichiarato più volte, la cosa bella e buona di quando un politico di lungo corso diventa presidente degli Stati Uniti è che tu hai la possibilità di analizzare tutta la sua carriera istituzionale e politica. C'è un giornalista dell'Intercept che si è preso la briga di andare ad elencare tutti i voti in politica estera che ha fatto Biden da quando è stato eletto al Senato nel 94 fino ad oggi. E tutte le dichiarazioni relative alle guerre. Biden non ha mai sostenuto, non crede affatto che la guerra sia una questione di lotta tra bene e il male, ma è una questione di prestigio e in particolare di prestigio degli Stati Uniti. Noi in questo momento stiamo affrontando quello che stiamo affrontando per conservare il prestigio degli Stati Uniti, non solo economico, ma anche politico. Perché poi alla fine tutta la ristrutturazione economica e sociale e istituzionale che stiamo affrontando e che si sta concretizzando in questo periodo è essenzialmente questo, quello di tentare di mantenere artificialmente un'egemonia di un modello di sviluppo che ormai si è dimostrato essere fallimentare. Il capitalismo liberista che ci ha intossicato come desiderio fino al 2008, cioè come una cosa desiderabile, come il migliore dei mondi possibili, è morto con la crisi del 2008 perché si è dimostrato incapace di fare ciò che promette, cioè la migliore allocazione possibile delle risorse, perché conosce tutto e sa tutto. Questo si è dimostrato falso, e anzi credere in questo principio si è dimostrato devastante per l'intera economia globale. Ciò nonostante il capitalismo non è morto, non ce ne siamo liberato, è rimasto sotto forma di zombie, che è ancora più difficile da sconfiggere. Perché è rimasto sotto forma di zombie? Perché a ogni crisi che ci identificava il fallimento del modello di sviluppo che noi ci siamo scelti, noi abbiamo risposto come? Affidando la ricerca delle soluzioni alle stesse persone che ci hanno portato in questa crisi. Lo abbiamo fatto nel 2009, lo abbiamo fatto nel 2011 e nel 2012, lo abbiamo fatto con la pandemia, la cui crisi economica, voglio dire, non era solo una crisi dovuta alla pandemia, ma veniva da ben lontano e l'abbiamo più volte analizzata in questa sede. E anche adesso, anche adesso con la guerra affidiamo la ricerca delle soluzioni alle stesse persone che ci hanno portato esattamente in questo punto. Dal punto di vista delle modifiche istituzionali, e qui chiudo, però questa è una cosa importante che io devo dire, che si concretizza, un vero e proprio disegno reazionario da parte di queste forze, che vuole trasformare, o forse ha già trasformato, di fatto, in uno modello liberale di Stato, quello che dovrebbe essere un modello democratico. Perché noi, non noi, noi che siamo qui ad ascoltare, ma purtroppo la pubblica opinione ha un concerto distorto di cos'è il pensiero liberale. Vent'anni di Berlusconi ci hanno intossicato, pensiamo che liberale abbia a che fare con la libertà. Ma questo non è vero, questo non è vero. E anzi, esattamente un modello opposto a quello democratico. Perché mentre il modello liberale dice lo Stato, cioè, lo Stato governa per il popolo, e perché il popolo non è capace, non sa un'alfabeta funzionale, non è in grado di decidere, eccetera, eccetera, non può decidere perché sono decisioni difficili, il modello democratico dice che la sovranità appartiene al popolo, che deve essere messo in grado di decidere. In conclusione abbiamo detto, muore, rimane il modello liberale e capitalista come zombie, come zombie, è l'unico modo di uccidere gli zombie, l'abbiamo visto tante serie tv, è tagliargli la testa, cioè eliminare la nostra sudditanza e dipendenza dalla Nato e dagli Stati Uniti alla ricerca di un futuro possibile. E grazie. Brava, bravissima, Michela. Ti introduco io, Roberto? Come vuoi, sì, io sono qui. No, volevo soltanto dire mezza parola sul fatto che sì, il capitalismo c'è e come se c'è, non è uno zombie, ma il capitalismo, e qui so che mi salterete alla giugolare, ha affascinato e irretito anche questa Cina di Xi Jinping, che non è più la Cina di Arrighi del libro bellissimo, meraviglioso di Adam Smith a Pechino, ma è una Cina altrettanto aggressiva, che spende una percentuale mostruosa di PIL sugli armamenti. Ora voi mi direte, in chiave difensiva? No, non è soltanto in chiave difensiva, cioè la Cina di Xi purtroppo è un paese che ha il suo imperialismo, il suo neocolonialismo, che viene attuato attraverso le cosiddette nuove vie della seta, ha un controllo sociale strettissimo su un miliardo e mezzo di abitanti attraverso il famoso internet che ci piaceva tanto quando è iniziato e quindi tutto quello che ha detto Michela sull'Occidente è vero e condivisibile e io credo che ci si ponga, ci si debba porre anche un problema sull'Oriente, specialmente se adesso ricordate le ultime dichiarazioni che sono state fatte da Xi Jinping in occasione della sua ultima visita a Hong Kong quando ha detto che la democrazia nasce a Hong Kong da quando Hong Kong non è più britannica. Peccato che però le repressioni a Hong Kong, le repressioni dell'opposizione da parte proprio di Xi Jinping sono state ferocissime, quindi il mondo si sta molto complicando e al vecchio imperialismo secondo me se ne sta affiancando un altro dove Russia, Turchia, l'Indonesia, una serie di stati stanno diventando satelliti di questa superpotenza che è ormai la Cina che può combattere ad armi pari con l'America e noi europei dove stiamo? Che fine facciamo? Continuiamo a fare i vassalli degli Stati Uniti? Vogliamo prenderci una nostra autonomia, una nostra identità? Cioè vogliamo dire che esistiamo e abbiamo qualche idea indipendentemente da quello che ci inculcano nella testa oppure ci dobbiamo appiattire sotto sempre il sogno americano poi adesso c'è anche il sogno cinese quindi è divertente vedere cioè io mi sono molto appassionata studiando ultimamente questi temi perché c'è uno scopiazzare di slogan sia da parte della Cina nei confronti degli Stati Uniti che viceversa e si rincorrono e poi come hai detto benissimo tu purtroppo si cade nella logica smittiana quella dell'amico-nemico per cui alla fine molti sociologi parlano dell'inevitabilità di una guerra tra queste due superpotenze dei loro satelliti cosa che io peraltro non condivido cioè non penso che per forza finiremo in una guerra guerreggiata ma insomma la situazione è molto complessa e sull'ambiente è verissimo quello che dice la Michela e passerei senz'altro la parola a Roberto Musacchio su questo argomento perché proprio con la scusa dell'ambiente ci sono tanti altri trappoloni che sono pronti trappoloni che sono pronti a farci cadere in insidie pericolosissime quindi Roberto prego grazie Fiammetta tu sei riuscita a determinare il fatto che cambio un pochino scaletta nel senso che faccio un'inversione perché tu mi hai portato sul tema che io avevo al termine di questa mia scaletta e cioè questa sorta di condizione orwelliana che stiamo vivendo nel definire tu la Cina in quella forma io penso che vado approfondita poi anche nelle omologazioni ma anche nelle differenze è evidente che viviamo una fase orwelliana e per quanto mi riguarda anche rispetto alle cose che diceva Michela mi lascio aperta la riflessione la discussione di ciò che è saltato della globalizzazione io scrivo spesso che peggio della globalizzazione c'è la sua rottura per vie geopolitiche ma cosa rimane però penso per esempio ai grandi mercati finanziari e al grande patto tra i dominanti che si combattono l'un con l'altro armati per vie diverse dal passato ma contemporaneamente mantengono un controllo complessivo sulla possibilità di gestire quella che abbiamo chiamato la lotta di classe rovesciata basta vedere la dinamica anche in questa fase delle crisi dei rapporti tra rendite, profitti e salari come avrebbe detto un maestro comune per renderci conto che insomma poi alla fine guadagnano negli Stati Uniti come guadagnano a Moschia ma ho scoperto che addirittura l'Italia esporta metano ha aumentato l'esportazione di metano detto questa cosa che è il punto con cui volevo concludere torno un po' sulla mia scaletta chiusando le questioni che diceva Michela utilmente apposta e quindi siccome lo sapevo che avrebbe fatto una cosa assolutamente compiuta mi sono ritagliato lo spazio diciamo così di alcune sottolineature politiche Michela ha detto una cosa che va ragionata cioè questo documento che noi abbiamo di fronte è un documento che è stato cominciato a lavorare tanti anni fa cioè noi lo stiamo vivendo adesso per quel poco che è uscito sui giornali come una sorta di risposta che era nato alla guerra scatenata da Putin in realtà noi stiamo parlando di un'elaborazione che viene avanti almeno dal 2010 con gruppi di lavoro permanenti con qualche presenza anche italiana con questi gruppi di lavoro permanenti e che hanno quella filosofia che Michela descriveva prima la parola Russia può essere stata inserita dopo lo scontro apertosi con l'invasione in Ucraina che era altro abbiamo già detto già aperto nella dimensione territoriale del Donbass e il suo ma l'approccio che è stato descritto era precedente io ricordo che il movimento dei movimenti quella cosa che abbiamo un po' praticato tutti all'inizio del 2000 aveva questa lettura cioè della guerra preventiva e permanente come elemento caratterizzante l'attuale fase della globalizzazione finanziaria che stavamo vivendo abbiamo parlato anche di spirale ad esempio guerra terrorismo che come dice Michela è elemento che rimane sullo sfondo oramai di questo documento ma che è stato un punto fondativo di questa ricostruzione delle ragioni Nato ora siccome in questi anni si è anche scritto che insomma la Nato era oramai un ferro vecchio io credo che purtroppo invece avesse ragione il movimento dei movimenti e tra l'altro lo dico è stata scritta adesso la parola russia probabilmente anche perché quando si è cominciato a lavorare a questo documento c'era addirittura l'ipotesi del partenariato con la Russia insomma naturalmente eravamo ancora primi della dinamica dell'89 di Yeltsin poi a Yeltsin è subentrato Putin come ulteriore involuzione di quella dinamica lì ma sostanzialmente c'era un'idea di condivisione tra i dominanti che lasciava però dietro sullo sfondo l'esigenza che veniva riaffermata sin dall'inizio della costruzione di questo documento di un suprematismo io lo chiamo così decisamente da parte di coloro che fanno parte di questa alleanza della Nato che non ha più nessuna ragione peraltro ideologica ma è orwelliana è una sorta di nemesi anche per Orwell che sapete bene aveva scritto 1984 pensando molto allo stalinismo e si trova una buona parte del mondo pensato in quel romanzo realizzato dal capitalismo globale finanziarizzato perché anche Putin è figlio dell'89 figlio della fine di quel mondo precedente e della vittoria come hanno detto loro del capitalismo globale finanziarista peraltro mi permetto di dire una sola cosa che Michela non ha detto così almeno c'è una cosa originale io sono rimasto colpito dal bilancio che loro fanno rapidamente della ragione di essere degli anni in cui hanno cominciato a scrivere il documento cioè della lotta al terrorismo perché c'è un passaggio sull'Afghanistan e sull'Iraq che francamente consiglierei di leggere agli ucraini per capire che fine rischiano di fare affidandosi alla Nato nel documento c'è la rivendicazione del successo delle missioni in Iraq e in Afghane ora passi per l'Iraq dove probabilmente non hanno grande come si può dire senso di responsabilità di fronte al milione più di morti che ci sono stati e il caos che si è determinato nell'aria gli interessa relativamente ma insomma scrivere come è scritto credo Michela aiutami perché l'ho letto in inglese che adesso l'Afghanistan è in grado di difendersi da solo dal terrorismo e quindi la missione ha avuto successo dopo aver riconsegnato l'Iraq ai talebani e io ero assolutamente d'accordo sul fatto che se ne andassero gli Stati Uniti e la NATO dall'Afghanistan la dice lunga su quale sarà diciamo il giudizio che daranno a fine guerra russa ucraina per quello che sarà successo e io temo che non sarà un bel vedere in prima luogo per gli ucraini ho detto che questo documento nasce da lontano e quindi ha dentro di sé diciamo un aggiornamento poi che adesso ho trovato le parole Russia ma sostanzialmente la questione cinese è quella probabilmente dominante di questa idea del suprematismo insomma l'aggiornamento è dato dal fatto che questa globalizzazione capitalistica finanzializzata si divide appunto in due parti orguagliane delle quali una si dichiara tu hai detto giustamente che sembra un film una cosa del genere io ho detto non è neanche più ideologica è una sorta ontologica noi siamo i buoni per questo dico che è il suprematismo e perché questo noi siamo i buoni porta poi a una serie di affermazioni eccessive poi già definito alcune di esse ma credo che diciamo l'affermazione American first e nessuno deve mettere in discussione il nostro modello di vita sia cosa ampiamente conosciuta ma qui si rafforza e con una serie di diciamo concetti che poi agiscono politiche che anche io vado un po' chiusando le cose che tu hai già detto riprendendo brevemente dalla premessa noi siamo i buoni nasce adesso l'attualità del nemico principale che è la Russia ma nasce lo sforzo del fatto che tutti gli altri vanno messi in una condizione diciamo così di non nuocere ora tu hai usato questo termine della resilienza credo in maniera più soft di quanto invece sia pesante scusa mi permetto di dire perché a me questo termine resilienza mi suona perfettamente consono all'idea della guerra permanente e preventiva cioè se me lo posso permettere per giocare un po' tra di noi come si dice a Roma chi mena prima mena due volte è esplicitato il concetto che ci vuole una dichiarata capacità di supremazia che anticipi le mosse degli altri e che questa si realizza attraverso questa capacità di resilienza cioè di rendersi permanentemente reattivi ma in realtà attivi in prima istanza rispetto a tutto ciò che si determina sullo scenario goblane che è uno scenario da questo punto di vista ontologicamente gerarchico in cui l'interrelazione con gli altri è dominata da questa gerarchizzazione e in cui tutti i valori sono relativi perché da questo punto di vista il fine giustifica i mezzi siccome il fine è il mantenimento della supremazia ontologica il relativismo etico è totale il salto di qualità ulteriore è dato da quello che tu dicevi all'inizio qui non siamo più nella definizione di un programma per una struttura militare diciamo parziale qui siamo dentro una nuova governance complessiva che si muove su tutti i terreni possibili immaginabili tu ne hai nucleati praticamente tutti ma insomma quando uno dice che si muove sul controllo delle cadene del valore dice una cosa assolutamente pesante cioè significa che le guerre economiche preventive sono un elemento fondamentale per mantenere la supremazia quando uno dice che bisogna controllare le risorse adesso vengo alla cosa che tu mi hai chiesto e che io ho un po' derubbligato anche in vista del problema climatico dice qualche cosa che rischia di essere particolarmente pesante perché significa rispetto alla terra all'acqua e agli elementi naturali fondamentali sostanzialmente una sorta di diritto di relazione si dice il controllo delle frontiere si è detto esplicitamente al vertice che per esempio le frontiere mediterranee debbano essere gestive noi ci faceva già schifo Frontex figuriamoci trovarsi la Nato a gestire le frontiere mediterranee un altro grande nemico che è la condizione del sud del mondo che non può procedere in modo tale da mettere in discussione lo stile di vita occidentale il controllo dello spazio il controllo delle tecnologie della conoscenza e quindi del sistema dei dati che è assolutamente fondamentale e noi sappiamo che c'è un contrasto per esempio tra le normative europee e le regole statunitensi rispetto ai dati stessi sono aperti dei contenziosi che scompaiono dai giornali e io non so più dove andare a trovare che fine hanno fatto perché sono stati aperti tra l'altro da commissari che poi però non è stata mia capacità a trovarne la conclusione ma poi pensiamo al caso di Assange per capire che cosa significa dal punto di vista concreto il controllo della informazione pensate a tutta questa storia delle fake di chi controlla le fake eccetera eccetera incredibile per algoritmi oramai lo viviamo quotidianamente anche su facebook quando scrivi una cosa che non va bene non si capisce perché eccetera eccetera e poi tema fondamentale che mi porta a tornare a dove da dove avevo cominciato seguendo e a metà e quindi spostandomi tutta la questione della della catena del valore fondamentale che è quella finanziaria ora noi sappiamo che qui c'è un elemento di contrasto e di scontro evidentissimo che è dato da questa rendita feudale che il dollaro c'ha su tutto il mercato finanziario e sappiamo che ha aperto un contrasto un conflitto però allo stato attuale il capitalismo finanziario è trasversale è la forma è la parte della globalizzazione che non sta toccando nessuno noi sappiamo che la crisi del 2008 è stata l'esportazione e la crisi finanziaria direttamente nei debiti sovrani e forse quel passaggio ha determinato un acuirsi dei contrasti interni alla globalizzazione ma ciò non toglie parliamoci chiaro metano e grano hanno problemi determinati dal conflitto militare ma passano per la borsa di Amsterdam e per la borsa di Montreal il primo e il secondo e allora io vedo che per capire che cosa succede dobbiamo vedere che cosa diciamo si determina nella dinamica tra la rottura della globalizzazione e il suo permanere sul livello del rovesciamento della lotta di classe che in qualche modo spinge comunque i dominanti a mantenere l'accordo tra loro non c'è dubbio che questo è un documento che metta al centro una nuova fase politica storica che è il neoatlantismo e questo l'abbiamo vissuto in Italia è evidente che la faglia che si è aperta in Italia è sul neoatlantismo e sull'interpretazione della gestione del neoatlantismo sul conflitto tra due soggettività politiche quella di Draghi e quella della destra che entrambi fanno parte del neoatlantismo e sul problema fondamentale che abbiamo noi sono molto d'accordo con Michela che dovremmo come si può dire tagliare la testa al toro però noi abbiamo bisogno di costruire una posizione di opposizione al neoatlantismo che abbia la dimensione europea ma che finalmente si reinsedi anche in Italia ma contemporaneamente abbiamo bisogno naturalmente di mantenere il punto rispetto diciamo a quello che c'è dietro al neoatlantismo e che è il capitalismo nella tua fase finanziaria globalizzata e dunque cercare non solo di autonomizzarsi dall'atlantismo ma di farlo attraverso la capacità di tornare a rovesciare al dritto la lotta di classe e cioè a rimettere i soggetti dominati nella condizione di confliggere con i soggetti dominati è evidente che noi siamo in un conflitto tra autoritarismi nazionalistici e democrature di fatto e in Italia è particolarmente intente il carattere ma questo noi lo possiamo affrontare se torniamo ad avere come protagonista della storia della modernità il soggetto antagonista per eccellenza cioè movimento operaio che pratichi l'idea della rivoluzione che è il grande nemico di tutte le forme che si materializzano nelle governance armate militarmente e politicamente grazie io ho finito grazie Roberto grazie come sempre interessantissimo mi hai suscitato due spunti di riflessione poi passo la parola a Franco Russo che me l'ha chiesta via chat la prima sul capitalismo finanziario e il ruolo del dollaro perché la Cina come sapete sta cercando di soppiantare con il renmibi il ruolo del dollaro come valuta di riserva e non solo ma ha fatto un passo avanti la Cina perché ha varato i renmibi cioè la moneta elettronica di Stato e sta concludendo con l'Arabia Saudita un accordo un mega accordo per l'acquisto di petrolio pagando la condizione è che accettino il pagamento in yuan quindi il capitalismo finanziario è come una piovra cioè non si ferma ai confini dell'America non si ferma ai confini della Romania dell'Ucraina della Russia cioè purtroppo si espande come come fa l'acqua quando trova un pertugio la seconda riflessione è proprio quella sull'Europa cioè la difesa comune europea nessuno e sottolineo nessuno faccia l'errore di pensare che è un modo per renderci autonomi dalla Nato perché nel nei documenti della difesa comune europea c'è scritto in tutte le salse a lettere maiuscole che la difesa comune europea è un pilastro della Nato quindi gli americani e la Nato si occuperanno dell'Indo-Pacifico la difesa comune europea si occuperà del Medio Oriente delle frontiere eccetera eccetera per questo ribadisco cioè noi europei cosa vogliamo fare ma veramente vogliamo continuare a starcene a fare i porta acqua eh del degli Stati Uniti e della Nato cioè veramente vogliamo costruire la difesa comune europea in questo modo a parte che io non sono d'accordo con la difesa comune europea ma questo è un problema mio eh ma quando anche fosse da fare non è così cioè non è non può essere un pilastro della Nato ecco Franco ti passo subito la parola poi ha chiesto la parola anche Andrea Amato mi sentite mi sentite grazie mille grazie per le due relazioni non vorrei rubare non ruberò molto tempo quindi sono molto telegrafico quindi anche un po' grezzo nelle considerazioni ma vorrei dire alcune cose a partire dalla relazione fatta da Michela e dal taglio che ha dato la relazione secondo me al di là della lunghezza ma che era molto interessante quindi è stata molto utile io penso che Michela abbia fatto molto bene a partire dall'universo linguistico nell'analisi del documento della Nato e secondo me questo metodo di Michela andrebbe steso anche e questo fiammetta Salmoni ha perfettamente ragione andrebbe anche steso agli avversari della Nato cioè di io penso che noi viviamo veramente Roberto Musac che inutile che adesso perde tempo ci è stato detto noi siamo veramente in un mondo orvegliano in cui tutti i protagonisti dell'attuale situazione internazionale quindi Cina Russia e i loro alleati Stati Uniti d'America Unione Europea e i loro alleati parlano una neolingua come in questo caso non lo diceva solo Orwell in cui la neolingua trasvaluta i significati delle parole e quindi un lavoro di interpretazione di demistificazione di decostruzione dell'universo linguistico secondo me è particolarmente importante e noi dobbiamo farlo continuamente in questa ragione Fiammetta anche nel ricordare ma nessuno di noi Fiammetta è filo cinese penso cioè sappiamo perfettamente che la Cina si è integrata nel mercato mondiale che la Cina ospita le più grandi multinazionali e è entrata in una competizione all'interno del mondo capitalistico ovviamente con un suo capitalismo perché oggi dobbiamo parlare appunto di capitalismi al plurale non solo per distinguere quello renano da quello angloamericano ma per individuare le diverse formule in cui si struttura il capitalismo però capitalismo in questo io sono d'accordo con chi ha detto capitalismi la cui gestione politica è una gestione sempre più autoritaria con autoritarismi differenziati ovviamente con diverse forme di autoritarismi ma di questo noi stiamo parlando quindi io credo e chiudo il primo punto diciamo così preliminare che l'approccio fatto da Michela sull'universo linguistico sia particolarmente utile interessante e ricco di prospettive cosa che secondo il conservatorio dobbiamo continuare a fare la seconda considerazione è questo io penso che l'evocazione degli scontri di civiltà in questo forse Michela dovendo analizzare soprattutto il documento Nato non ha considerato l'altro versante ricordiamoci che il documento del 4 febbraio Russia-Cina i discorsi di Putin ultimo quello dell'altro giorno esaltano anche loro appunto uno scontro di civiltà cioè ormai noi siamo entrati veramente in un mondo in cui i capitalismi si confrontano a mano armata e quindi viviamo una situazione nel planetaria molto molto pericolosa cioè adesso è inutile dire ci sarà non ci sarà la terza guerra a pezzi mondiale a pezzi comunque il confronto non è più solo di competizione fra imprese come è stata nella fase ascendente della globalizzazione viviamo ormai una fase di scontro armato per affermare i propri modelli di capitalismo e affermare le proprie imprese questa è la seconda cosa che volevo dire la terza cosa è la militarizzazione spinta quindi che noi viviamo in ogni area del mondo perché diciamo così a livello di diciamo di spese militari Fiammetta ricordava appunto l'eccezionale balzo in avanti fatto dalla Cina ma comunque ricordiamoci che i maggiori paesi che spendono di più rimangono ancora gli Stati Uniti e molto distante viene la Russia molto distante viene la Cina per problema appunto proprio di ricchezza ma soprattutto secondo me di modello di sviluppo perché gli ultimi gesti le ultime no gesti le ultime decisioni prese dall'Unione Europea per sviluppare i progetti di ricerca in campo militare per unificare il cosiddetto procurement in campo militare cioè l'acquisizione di armamenti eccetera eccetera le decisioni appunto di una politica di difesa comune entro cui l'Italia si situa bene perché Leonardo Fincantieri stanno dentro questo meccanismo lo sviluppo dei nuovi modelli di aereo io poi non sono un esperto in questo in altri campi ma soprattutto in questo in questo campo comunque leggendo i documenti dell'Unione Europea emerge appunto una spinta di militarizzazione della politica e degli investimenti produttivi cioè ancora una volta le spese militare traineranno gran parte della ricerca come internet è stata trainata come ricerca da parte negli Stati negli Stati Uniti quindi noi questa fase di militarizzazione non solo di diciamo così uso dallo strumento militare ma di guida da parte dello strumento militare del capitalismo nulla di nuovo sotto il sole perché noi ricordiamoci che anche negli anni cinquanta appunto lo stesso Senagua denunciò appunto l'apparato industriale militare come guida come asse portante del capitalismo e il capitalismo si afferma appunto essere in questa direzione io vorrei citarvi però ho voluto richiamare questo aspetto di militarizzazione a un punto diciamo così anche di ricerca teorica ulteriore oltre a quelli che già Michela denunciava io ho letto di recente di recente perché il 19 luglio quindi tre giorni fa un su 24 ore un articolo di Marco Buti e Vittorio Messori ora io non devo dire a voi chi sono i due personaggi perché Marco Buti è il direttore generale della direzione economica quella di Gentilone Vittorio Messori come sappiamo è un ex economista progressista molto quotato e cosa dicono loro nel loro secondo capoverto dicono lo shock dovuto al Covid-19 e quello prodotto dall'invasione russa dell'Ucraina sono stati eventi esogeni ed eccezionali ecco questo è un punto falso proprio che non coglie diciamo la vera dinamica del capitalismo perché sia per quanto riguarda il Covid Roberto parlava delle vicende del clima sia per quanto riguarda la guerra non sono shock esogeni ma sono invece interni allo sviluppo del capitalismo questa è una narrazione del capitalismo che ha due secoli di storia dietro per cui appunto il commercio è quello che porta alla pace ora noi dovremmo dedicare secondo me quando parleremo di energia dedicare probabilmente come osservatorio un'analisi specifica invece che non esistono gli shock esogeni del capitalismo il quale avrebbe una sua linearità e poi a un certo punto sono le crisi esogene no perché il capitalismo è produttore di crisi vive di crisi e vive di crisi militare come appunto si sta dimostrando in questi anni io l'ho fatta molto lunga quindi mi scuso e taglio altre cose che volevo dire però penso che l'essenziale l'abbia l'abbia detto nel senso appunto soprattutto quest'ultimo punto il capitalismo è portato anzi i capitalismi sono portatori di guerra volevo fare due proposte una esterna all'osservatorio però utilizzo l'osservatorio come sede perché non è sendo iscritta a nessun partito l'ultima conferenza dei capigruppo Roberto Musacchi ascoltami l'ultima conferenza dei capigruppo ha deciso di mettere all'ordine del giorno prima che si chiuda la legislatura l'adesione della Svezia e della Finlandia alla Nato io ho letto un intervento di primicerio non vi dico chi c'è perché lo sapete tutti quanti i collaboratori del sindaco di Firenze la Pira il quale ha lanciato un appello che secondo me Transform dovrebbe far proprio affinché ci sia una moratoria nell'adesione della Svezia e della Finlandia alla Nato e quindi io penso ripeto non come osservatore perché noi siamo esterni ma penso che se Transform raccogliesse questo appello quindi attraverso manifesto dobbiamo chiedere senza i giudizi entreranno o non entreranno noi intanto chiamiamo la moratoria io penso che sia un obiettivo credibile in maniera che il Parlamento salti questa fase di adesione accelerata di queste due nazioni alla Nato perché lungi dal portapace secondo me sarà ulteriormente un ambito di procurerà di violenze ulteriori nel nostro continente la Nato si rafforzerà come braccio armato dell'Unione Europea questo lo diceva già Fiammi la seconda proposta è questa che faccio oltre al problema energia e quindi capitalismo eccetera eccetera alla nostra ripresa come osservatorio in questo caso io propongo di discutere il libro di Fiammetta Salmoni adesso io non so se tutti ce l'hanno oppure lei gentilmente ci ha inviato una copia diciamo così oppure se lo si compra ma io penso che Fiammetta stesso chi per lei potrebbe introdurre questa questa discussione e diciamo che potremmo farlo proprio diciamo alla ripresa a settembre i primi di di ottobre so che in comune elezioni c'è altri altri temi ma se noi accoppiamo energia capitalismo e il libro di Fiammetta penso che potremmo ulteriormente sviluppare questi nostri temi mi scuso se l'ho fatta nonostante la mia la volontà di essere un po' più lunga di quanto dovessi grazie grazie a te Franco grazie anche per questa proposta che ovviamente mi onora moltissimo e passo subito la parola ad Andrea Amato che è un po' che stava aspettando prego Andrea grazie ma io sono sostanzialmente d'accordo con tutte le cose che sono state dette finora quindi cercherò di fare soltanto qualche aggiunta qualche chiosa riprendendo soprattutto le sollicitazioni di Fiammetta allora sul documento che anch'io ho dovuto leggere anche per perché stavo scrivendo un articolo che affrontava anche questa questione la cosa interessante proprio nel senso dell'allargamento del campo di intervento della Nato cui giustamente Michela faceva riferimento è visto no è venduto mi è capitato di leggere di sentire esponenti anche italiani della Nato del collegio della della fondazione eccetera eccetera che vendono questa estensione come voglio dire un'apertura della Nato al sociale pensate si occupano anche della violenza delle donne si occupano della tratta la violenza sulle donne la tratta la tratta di esseri umani eccetera eccetera quindi la Nato non è quella cosa brutta diciamo tutto militare di cui voi andate cianciando questo è un po' la cosa che secondo me bisogna bisogna controbattere così come credo che a livello di lotta politica bisogna insistere sulla diciamo guida unica da parte degli Stati Uniti della Nato che è una cosa che tutti sanno ma che a livello ufficiale però non viene mai ammesso mi è capitato ultimamente in una cena di parlare con un ex segretario vabbè insomma con uno con un diplomatico importante della Nato e quando ho detto questa cosa ma no ma per carità ma chi l'ha mai detto la Nato ha degli organi democratici che decidono eccetera eccetera quindi a livello come dire di proprio perché sono d'accordo con le cose che diceva Franco che l'analisi deve partire anche dal disvelare anche attraverso il senso delle parole ma non solo il senso delle parole quello che invece si cerca di far passare detto questo sono d'accordo con Roberto che poi siccome vabbè dietro ci sono gli Stati Uniti dietro gli Stati Uniti c'è il capitalismo e l'imperialismo gli imperialismi e l'imperialismo non è più diciamo uno soltanto non c'è non c'è nemmeno non c'è più una potenza unipolare e però tutto questo si può risolvere soltanto con quello che ha detto Roberto cioè con la lotta di classe bene allora io non voglio adesso aprire la questione perché il movimento dei movimenti ha fallito eccetera eccetera credo che te ne sia già parlato abbastanza però sono convinto che questo della lotta di classe sia il passaggio diciamo necessario però la lotta di classe non significa soltanto erodere potere al capitalismo ma anche alla sua proiezione politica e questo lo fai cambiando le politiche allora voglio dire le politiche portano necessariamente a un discorso che che è quello dell'Unione dell'Unione Europea a cui faceva riferimento Fianney cioè giustamente lei diceva dobbiamo accettare tutto tutto questo dobbiamo ora siccome io penso che non ci sarà una prevalenza di un capitalismo sull'altro insomma non è non sarà un mondo dominato dal capitalismo cinese e e non potrà essere un mondo tutto uniformato diciamo al capitalismo all'imperialismo americano quindi si continuerà questa faglia che 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 si è aperta questa questa cosa che il documento della NATO e la guerra in Ucraina stanno diciamo accelerando cioè questa frattura tra est e ovest e beh diventa una cosa come dire endemica una cosa che fa presupporre proprio perché nessuno prevalrà totalmente sull'altro a un mondo che continuerà appunto a essere oggetto di conflitti di tutti di tutti allora se non se vogliamo sfuggire a questo destino c'è ragione fiambetta bisogna che pensiamo all'Europa e all'Europa rispetto alla NATO allora credo che non sia più il tempo non c'è non il tempo insomma non ci sono le condizioni per parole d'ordine come l'Italia fuori dalla NATO e la NATO fuori dall'Italia insomma però le cose che diceva fiambetta cioè questa subordinazione anche attraverso i trattati perché è il trattato quello di Lisbona l'ultimo che conferma che sulle questioni di difesa l'Unione Europea deve stare a sentire sì sì articolo 42 del trattato sull'Unione Europea la la desistenza insomma dell'Unione dell'Unione Europea e allora questo è un terreno in cui si deve esercitare diciamo la la lotta politica però insomma la faccio la faccio breve anche schematica perché non so se qualcuno di voi ha letto questo mio ultimo articolo che è andato su transom io sostanzialmente dico che qualunque cosa si voglia fare in questo senso passa attraverso un passaggio che è quello della Federazione Europea se non c'è questo meccanismo democratico che possa assicurare che le lotte dal basso poi possano avere uno sbocco democratico a livello continentale è inutile che stiamo a fare come si dice a Napoli che ne ha la bottiglia visto che ci sono le napoletane e quindi questa è la è la poi io nell'articolo faccio anche delle proposte eterodosse insomma no se l'Europa diciamo guadagna questa autonomia e sono d'accordo con Fiammetta non c'entra niente con la difesa europea anzi anch'io sono d'accordo ad essere contro la difesa europea perché una difesa europea in mano a una Unione europea che è intergovernativa quando anche cambiasse ritrattati e facessero passare come dire la la eliminazione del del veto e le decisioni a maggioranza anzi sarebbe peggio perché sarebbe decisioni prese solo come dire da una da un'elite di paesi cioè i più forti insomma quindi voglio dire la democrazia va proprio a farsi friggere una eventuale se a limite dobbiamo parlare di difesa europea può esistere solo all'interno di una federazione che abbia due requisiti da un lato voglio dire una democrazia parlamentare dall'altro una costituzione che raccolga il meglio delle costituzioni europee faccio riferimento all'articolo 11 della nostra della nostra costituzione quindi voglio dire noi abbiamo questo terreno su cui far avanzare la critica la lotta eccetera eccetera dall'altra parte forse e qui vengo alla mia idea eterogossa è quella di cominciare a pensare che l'Europa potrebbe senza uscire dalla Nato incominciare a tessere altre alleanze altre alleanze che non sono necessariamente voglio dire con con la Cina ma con tutto quello che c'è intorno all'Europa a cominciare a cominciare dalla Russia il che vuol dire Medio Oriente il che vuol dire Africa allora può essere anche un'idea sballata però forse meriterebbe anche parlarne un momento o l'altro grazie grazie a te Andrea si si molto d'accordo basta con il metodo funzionalista facciamo una bella costituente europea basta con il metodo convenzione cioè o ci stiamo dentro o ce ne tiriamo fuori tutti perché siamo a un punto di svolta almeno io personalmente la vedo così e credo che sia importante anche che gli stati membri si assumano le loro responsabilità senza lasciare che Parigi faccia le corse in avanti cercando di costruire il consenso di Parigi intorno al fatto che loro sono gli unici paesi che hanno il nucleare mentre invece tutti gli altri stati europei non ce l'hanno perché pure questo sta accadendo quindi grazie Andrea le tue proposte eterodosse sono trovano il mio completo assenso convinto ecco c'è qualcuno che vuole intervenire posso io vai ecco ti ciao Fiammetta ma brevemente per tutti perché sono molto molto d'accordo ovviamente dico ovviamente perché si è discusso Tammichela è giurista democratica costituzionalista importante discutiamo spesso di questi temi e con Roberto ovviamente e credo che tra l'altro lo dico a un passante per essere breve credo che le integrazioni che ora faceva Andrea ma discutiamo e e quelle che Franco Russo io sono d'accordo il capitalismo ovviamente è un classico del nostro pensiero marxiano i capitalismi sono portatori di guerra e l'altro punto che si collega alla proposta che condivido di Franco dopo l'estate dal settembre di organizzare un seminario tra l'altro con una tua relazione Fiammetta sul tuo libro che io non sono riuscito in merita ancora a leggere perché dall'altro ho avuto il mio glaucoma mi porta a usare in questo periodo nell'ordine del medico molto poco molto poco il computer comunque sono molto d'accordo che come dire è lo stato lo stato sociale diventa questo che sia un punto fondamentale anche interno alla relazione al primo punto al punto A fondamentale da parte del pubblico privato della relazione della relazione di Michela beh basta vedere vi sono dei dati significativi che il capitale usa molto anche l'immagine che sono metafori di questo aspetto basta pensare che anche la pandemia e la lotta o la pandemia o perlomeno il tentativo di portare all'interno della società un'idea di sanificazione collegata alla sicurezza beh è stata affidata al generale Figuro no? voglio dire è un dato che deriva da la Nato quasi interessa appunto oltre oltre Frontex appunto il problema dei migranti e così via quindi sono molto d'accordo con questo aspetto che mi sembra fondamentale anche sul piano proprio delle strutture ideologiche che Michele e Roberto ci hanno ci hanno giustamente argomentato anche con credo con inediti intelligenti osservazioni tu giustamente dicevi citavi lo splendido Adam Smith a Pechino di Arrighi tra l'altro compiando Arrighi che credo molti di noi hanno potuto conoscere con cui confrontarsi e hai ragione il punto fondamentale è che nel passaggio fra quello che chiama appunto il secolo americano al secolo cinese c'è il passaggio da un'interaismo all'altro e probabilmente vi è sottostante oggi e questo è anche la guerra che viviamo in Europa e a livello globale e alla guerra monetaria perché l'equilibrio a Bretton Woods non c'è più non c'è più una sola moneta e quindi viviamo in una fase di una fase anche di multimonetarismo il suprematismo bianco appunto i maligni molto molto importante anche sul piano letterario questo aspetto che citava Michela io credo che non sia solamente frutto della logica protestante una logica protoprotestante tipica della formazione degli Stati Uniti e quindi hollywoodiana cioè Michela invece ha anche l'idea di fondo del suprematismo del suprematismo bianco a questo punto appunto volevo fare la prima osservazione io tenterò anch'io come Andrea di dire facciamo qualcosa perché il quadro è chiaro e lo condivido partiamo da un punto l'ONU ai fini comuni della carta di San Francisco oggi l'ONU poi pian piano oggi è esistente praticamente pian piano si è trasformata in una come dire in una superagenzia umanitaria lasciando pace sicurezza i concetti di fondo che erano nati dopo il prima dopo dopo la Shoah dopo la seconda guerra mondiale c'è qualcuno che c'è l'ONU scusa puoi chiudere il microfono diceva l'ONU si trasformerà in una superagenzia umanitaria lasciando la pace e la sicurezza in balia delle incognite ossia un generalizzato confronto concorrenziale militare fa individui gruppi e stati e di questo si tratta quindi oggi il mondo torna ad essere multipolare torna ad essere multipolare ma è un multipolarismo del tutto privo di norme e di linguaggi comuni lo dico anche perché è il mestiere come quello di Michela che ha un giudista democratico ma privi di norme e linguaggi comuni noi a questo crediamo ancora un po' qual è l'aspetto si dice diceva Andrea Amato giustamente poco fa il rapporto con l'Africa e il mondo ma l'unità questo lo vediamo anche nell'attuale guerra è in corso l'attrazione della Russia all'Ucraina l'unità ritrovata dall'Occidente mi pongo questo problema va forse di pari passo anche con una sua con una sua relativa solitudine certo di forza il PIL quasi al 50% ma una relativa solitudine altrimenti la Russia peraltro non potrebbe resistere anche in termini economici finanziari e i viaggi i viaggi di Putin negli ultimi due o tre mesi ci indicano questo ma anche alcune assemblee e convegni internazionali cioè noi vediamo lo dico come come punto eh descrittivo vediamo attorno eh alla Russia c'è una combinazione di riluttanza di non allineamento di diffidenza di molti stati allora per chiudere su questo primo appunto dei tre punti che volevo trattare eh c'è eh una bella intervista ad un intellettuale senegalese che si chiede espressamente quasi lo cito perché l'Africa ad esempio in questo momento nella guerra russo-utraina dovrebbe seguire le vecchie potenze coloniali che non hanno mai ascoltato il continente quando chiedeva la fine della guerra d'Algeria o quando aveva presentato un piano di direzione per uscire dalla crisi libica e questo forse ci descrive un'altra parte del mondo che non abbiamo descritto e a questo la Nato è molto attenta voglio dire chiunque si interessa di questione kurda sa cosa significa l'abbandono dagli Stati Uniti del Rojava del confederalismo democratico agli eserciti che oggi stanno facendo dei genocidi negli laggi sia del confine iracheno sia del confine siriano genocidi di kurda ma non se ne interessa nessuno e per quanto riguarda l'assetto medio orientale basti pensare al fatto che sostanzialmente l'ultimo viaggio di Biden e quelli precedenti del segretario di Stato hanno come dire hanno dato vita a una vera e propria una sorta di Nato medio orientale ecco siamo ad una Nato medio orientale e non dimentichiamo quando parliamo di assedio anche alla Cina all'imperialismo cinese non dimentichiamo ciò che accade appunto nel Pacifico anche Michela ricordava il significato simbolico del passaggio dagli armamenti francesi di Macron agli armamenti diretti mandati da Biden come dire come dato politico c'è attenzione attenzione perché in mano se lo abbiamo noi la situazione ecco io credo che credo anche io ma l'abbiamo discusso altre volte c'è stata una relazione di Piccin e Gregorio in uno scorso osservatorio penso che il problema di opponenti ammetta dalla difesa comune europea ovviamente sia un problema serio anche io sono contro l'esercito europeo di tipo professionale come si ammetta penso che sia spinto dal complesso militare industriale di cui Leonardo è uno dei primi dei primi complessi appunti industriali europei quindi credo che su questo punto diciamo non riprendo un tema che come trasformer abbiamo già ma non l'abbiamo in archivio ma l'abbiamo già in qualche modo in maniera forte presentato e credo che sia per noi anche una guida di approfondimento e una guida per l'azione il terzo punto che volevo dire certo la lotta di classe siamo completamente d'accordo con Roberto ovviamente con Andrea Andrea Mato e però fosse noi potremmo fare qualcosa di più e un'allusione la faceva giustamente Franco e io sono completamente d'accordo d'assumarlo parliamone subito Roberto con Manifesto con la Mignes eccetera tra l'altro io vengo da un convegno online con Francoforte con l'associazione internazionale in Europa dei kurdi che pongono lo stesso tema cioè il tema che tu hai posto della moratoria visto che deve passare attraverso i parlamenti nazionali l'accordo perché l'accordo del 15 maggio appunto del 2022 e noi non possiamo sottovalutare credo che si sta rimuovendo anche un po' nella coscienza della politica critica della politica di sinistra perché l'annuncio la proposta e il consenso per ora si è fatto di questo che deve passare attraverso i parlamenti dei singoli stati di Svezia e Finlandia di adesione alla NATO comporta due tipi uno che mi piacerebbe poi riprendere bisognerebbe su questo riflettere di nuovo scrivere partendo magari da Brandt ma anche da Aldo Moro cioè quel che significava appunto nell'assetto europeo proprio dell'Unione Europea il concetto di nazione neutrale e forse Andrea noi dovremmo anche riprendere appunto il concetto di neutralismo perché di fatti al di là dell'aspetto economico militare capitalistici di interessi l'abbattimento del concetto di neutralismo per l'adesione di Svezia e Finlandia significa una cosa su cui si è fondata nel dopoguerra sia l'ONU sia anche i trattati che peraltro sono quasi tutti scaduti eh i trattati sulla proliferazione delle armi nucleari i trattati europei insomma e forse come trasformi ce ne dovremmo anche giuridicamente interessare ma soprattutto mette è una cosa a riarmo a riarmo che mette due stati nucleari tra loro oggi in conflitto e in contraddizione l'una ai confini dell'altro questa è una grande novità perché ovviamente attraverso vi ricordo conoscete meglio di me la geografia già politica il golfo di San Pietroburgo il golfo di Finlandia eccetera praticamente le due stati neutrali i due stati non più neutrali e la Russia quindi stati sono sono confinanti sono stati appunto che hanno l'armamento nucleare beh io credo che a questo punto noi dobbiamo chiudere dovremmo in qualche modo approfondirlo un po' meglio cioè la situazione diventa tanto più pericolosa perché è pericolosa insomma se è vero anche quello che diceva Franco come militarizzazione del gloppo perché tutto questo avviene in un processo che è stato lungo che è durato 15-16 anni è un travolgente processo di come dire di decostruzione proprio giuridica di decostruzione giuridico ovviamente imputare il diritto è sempre una proiezione per rapporti di forza e di classe di tutti i dispositivi la decostruzione di tutti i dispositivi di intermediazione e di garanzia contro una rischia contro un rischio di perdita di controllo e che io per questo penso Andrea che accanto a quello che giustamente tu dicevi e che anche Fiammetta riprendeva io credo che tentare di portare in Europa una cultura ovviamente una cultura conflittuale in questo momento una cultura contro la qualità europea che possa concordare ecco misure di disarmi magari lanciando provocatoriamente l'organizzazione di una nuova conferenza sulla sicurezza e cooperazione in Europa ma perché no perché no nel momento in cui diciamo giustamente confiammette no a quell'idea a quell'idea di sicurezza europea ma perché le forze critiche devono essere così subbatterne oppure dire soltanto ripetere soltanto magari in maniera un po' disperata e impotente no alla Nato che va benissimo e no a questi non europei ma diciamo che l'Unione Europea non va bene non ci piace e noi abbiamo una proposta una proposta completamente radicalmente alternativa vi ringrazio grazie a te Giovanni grazie bellissimo intervento e sono molto d'accordo cioè fare proposte questo sarebbe importante perché purtroppo diciamo diciamo no 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 e però poi alla fine ci accusano di essere soltanto distruttivi e di non di non portare mai avanti no niente di propositivo invece forse sarebbe opportuno facciamo una proposta e e portiamola avanti e vediamo che cosa ci dicono Michela io proprio su questa questione della proposta a cavallo tra il dispacimento di Bretton Woods e l'emersione poi del nuovo principio del Washington Consensus si è sviluppato il movimento dei paesi non allineati attorno ai dieci punti di Bandung che proponevano una neutralità attiva che si distingue dalla neutralità classica per cui un soggetto si chiama terzo rispetto a un determinato conflitto ma nell'obiettivo nel tentativo di recuperare una democratizzazione dei rapporti politici internazionali ed economici soprattutto attraverso poi la proposta del nuovo ordine economico internazionale che fecero nel 77 e che poi ovviamente non è stata portata avanti però riuscirono a rivitalizzare sia tutte le organizzazioni dell'ONU attorno a un nuovo modello economico di sviluppo cooperativo e non più come dicevate giustamente voi capitalismi competitivi a mano armata ecco quindi diciamo uno spirito di Bandung 2.0 attraverso la riproposizione di una neutralità attiva che significa essere soggetti autonomi politici e schierarsi non sistemicamente con un blocco con un l'altro soprattutto in tempo di pace ma schierarsi di volta in volta contro chi viene identificato contro un nemico di questi principi e della pace nel rispetto pieno dell'autodeterminazione dei popoli e degli stati bellissimo grazie allora ringrazio ancora Michela Ricale e Roberto Musacchio per le loro splendide relazioni che ci hanno stimolato riflessioni importanti e ovviamente ringrazio tutti coloro che sono intervenuti da Franco Russo Andrea Mato Giovanni Russo Spena ci lasciamo quindi con una riflessione sulla proposta da fare quindi quando ci ritroveremo avremo magari messo a punto qualche cosa su cui provare a ragionare tutti insieme con un altro incontro di Transform che metta fammi dire una cosa solo un minuto solo che io diciamo mi aggiungo alle proposte e so che bisogna sempre proporre in positivo però ne faccio una in negativo ma che c'è molto di positivo io penso che dobbiamo dire che noi ci batteremo contro l'aumento delle spese militari assolutamente vecchia ma assolutamente attuale visto che c'è l'obbligo di portarla al 2% io penso che siccome si vota questo deve essere un punto centrale della campagna elettorale io voterò per chi dice che non applica quel 2% grazie ci tenevo a fare questa battuta grazie Roberto grazie allora niente buona serata a tutti buone vacanze per chi sta partendo ci aggiorniamo comunque via email e grazie a tutti quanti grazie 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 ciao trovate tutto su Transform naturalmente grazie ciao ciao a tutte grazie a tutti grazie a tutti